I temi toccati dalla relazione del dottor Luca Vasile sono cruciali. Sul tenore, sulla natura di certe sue affermazioni che interpretano giustamente i passaggi concettuali di Marx, si è giocato in parte, in larga parte, il destino della sinistra occidentale e orientale. Perché il carattere di feticcio non è proprio della forma, la forma non nasconde necessariamente. La forma è la garanzia della neutralità della legge. L'elemento organicistico, che comunque, nonostante la famosa frase che conclude il capitolo Feuerbach dell'ideologia tedesca, l'associazione del libero sviluppo di ciascuna e condizione del libero sviluppo di tutti, non riesce comunque nel Marx, che in questo è fondamentalmente organicistico ed hegeliano, a nascondere questi tratti sostanzialmente regressivi. Nel senso, Marx, dicevo ieri, noi abbiamo parlato dell'inesistenza storica, concettuale, di una ortodossia marxista. Bene, questo è assodato. Io ieri dicevo, esiste, contemporaneamente e in maniera apparentemente paradossale, un sistema marxiano, strutturato in questa forma. Critica delle religioni, che nell'altro testo apparso sugli anali franco-tedeschi, Marx dice, per l'essenziale completata. Critica della politica, che Marx assegna alla Judenfrage. e critica, e anche al testo inedito che verrà pubblicato successivamente, critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico di un paio d'anni precedenti. E a livello superiore, come architrave, come piano della redenzione, da qualsiasi forma di estraneazione e di alienazione, c'è la critica dell'economia politica. Cioè tutto quello che riguarda la forma del diritto, la forma della politica, il portato vitale, fondamentale che ci proviene dalla storia dello Stato liberale di diritto, cioè i diritti individuali, vengono concepiti in maniera regressiva, in maniera distruttrice della originaria totalità organica, armonica, unitaria, che in parte, giustamente come diceva Luca, Marx mutua da Feuerbach, che era un rilievo tra l'altro anche che aveva avanzato anche il professor Finelli ieri. C'è anti-giudaismo, c'è questa componente anti-giudea, è inutile negarlo. C'è in Marx, ieri il professor Finelli lo diceva, perché molto probabilmente il padre deve abbiurare la religione ebraica, deve convertirsi all'uteranesimo per poter esercitare la propria questione di avvocato. C'è nell'Heidegger dei quaderni neri che sono usciti in questi anni, c'è in Carl Schmitt, nel saggio del 37, su Thomas Hobbes, dove gli ebrei sono coloro che divorano le carni del leviatano e riescono a divorare gli ebrei la carne del leviatano perché il leviatano è diventato macchina, è diventato pura forma, è diventata pura procedura. E Kelsen gli risponde, guarda che senza la mera procedura, senza la forma, senza il rispetto della legge e dei diritti individuali, non si va da nessuna parte. Questo ha riflessi anche sull'economico. Questo è stato da molto tempo anche un elemento di discussione tra me e il mio carissimo amico Carlo. Diciamo la sottovalutazione della dimensione giuridica, non solo politico-statuale ma giuridica, ha avuto inevitabili, tragiche conseguenze anche sul piano economico, perché se ci fosse stato un pluralismo partitico, lasciando stare le condizioni di accerchiamento, per carità su quello siamo tutti d'accordo, ma se ci fossero state delle condizioni di controllo effettivo da parte dei singoli individui, non delle associazioni o delle comunità, i singoli individui che avrebbero potuto liberamente associarsi per incidere, controllare e verificare l'operato dei sedicenti burocrati sovietici, anche l'impasse economico, in quei paesi non si sarebbe verificato in quelle proporzioni così mostruose che poi da ultimo sono state sostanzialmente le motivazioni che hanno condotto, oltre all'isolamento e oltre alla corsa agli armamenti, al crollo di quel sistema. Quindi la radice, io ho attraversato, ecco il concetto di attraversamento è fondamentale, Marx dice che bisogna attraversare, non nei manoscritti economico-filosofici, nel manifesto, dobbiamo attraversare quello che la borghesia ha fatto di buono, bisogna, se no si rimane, i sensi devono diventare dei teorici, noi dobbiamo digerire tutta la cultura dall'epoca classica fino alle manifestazioni più recenti, dobbiamo attraversare tutto il portato storico e anche il portato dello sviluppo produttivo capitalistico, perché sempre nel capitolo Feuerbach dell'ideologia tedesca, scusate la parolaccia che andrò a dire fra poco, Marx dice che se noi non ereditiamo lo sviluppo attuale, anzi se non lo potenziamo, questo sviluppo attuale delle forze produttive, ricadremo nella vecchia merda della redistribuzione della penuria, della miseria. Quindi Marx si fa carico, capisce il carattere rivoluzionario, come sottolineava Carlo, di questa esplosione, di questa spinta espansiva capitalistica, ne capisce il carattere progressivo, non ne capisce il carattere progressivo nei termini di affermazione, difesa e supremazia dello Stato liberale di diritto. Quindi c'è questa sottovalutazione, legata certamente, se Marx scrivesse oggi, in democrazie avanzate, è chiaro che la cosa forse sarebbe diversa, ma all'epoca, con quel tipo di organizzazione statuale, con quel tipo di diritto discriminatorio, e con quel tipo di miseria, perché poi quando uno ha fame o è costretto a 14 ore di lavoro, non è che va a vedere se se i diritti, se non dà eccessiva importanza ai diritti liberali, ai diritti della persona, ai diritti individuali. Dà importanza ai diritti della riduzione della giornata lavorativa, dell'intervento della condizione minorile e delle donne nelle fabbriche, nella produzione. Quindi la causa fondamentale della sottovalutazione della dimensione giuridica, ripeto, non soltanto politico-statuale, giuridica in Marx, è fondamentalmente legata alla struttura arcaica, primitiva, di quel tipo di amministrazione giuridica. E anche al, ripeto, al suo anti-ebraismo. Questo non lo dobbiamo nascondere, lo diceva un interprete, io non sono assolutamente titolato ad esprimere giudizi in qualche modo definitivi, per carità sono un amatore della materia. Un interprete come il professor Finelli, che da una vita, da 45 anni, studia questi argomenti, identificava nell'anti-giudeismo di Marx un elemento distorcente e la sua interpretazione di alcuni snodi teorici cruciali della vicenda che ha attraversato. Quindi l'attraversamento, diciamo, Marx mutua da Hegel è un Aufhebung a corrente alternata, supera conservando la potenzialità della crescita delle forze produttive capitalistiche, ma però non supera conservando il, come lo stesso Hegel, la progressività in tema di civiltà giuridica dello Stato liberale di diritto, che volenti o nolenti, volenti o nolenti, ieri come oggi, come domani, soprattutto di fronte alle minacce, a cui alludeva lo stesso professor Iacono, può costituire, insieme ad altre forme di resistenza e di organizzazione collettiva, una forma non revocabile di tutela della nostra libertà più profonda. In effetti qui è il punto, diciamo così, della nostra discussione. Io ringrazio Giuliano che ha detto molto bene le opposizioni che si possono muovere alla teoria marxiana, ma rispetto al quale il mio dissenso non potrebbe che essere più radicale, non nel senso che io non veda che ho riconosciuto essere presenti questi elementi, ma io trovo che, soprattutto da parte di una certa interpretazione di origine liberale democratica, o diciamo di approdo anche di autori marxisti poi al liberalismo, per esempio il mio maestro Biagio De Giovanni è sostanzialmente di questa opinione, io trovo che ci sia una soprovalutazione di alcuni elementi presenti nel primo Marx che pure persistono anche nel resto della sua ricerca come ha cercato di esibire rispetto ad altri, questo è il nodo, cioè alla fine che cosa gli viene contestata a questo Marx? Infatti sì, ma tu la mediazione la vedi fino a un certo punto nello sviluppo capitalistico, ma poi non puoi fare altro che appellarti a una sua rottura, questa è l'idea di David poi sostanzialmente, cioè fai come Nietzsche, a un certo punto arriva a un punto in cui non è che ammetti il fatto che il mondo è fatto comunque di forme obiettivate che siano il diritto, che siano gli apparati statali, che siano il mercato, a un certo punto tu Marx vagheggi una dimensione di libertà che non si capisce bene come si libra al di là di ognuno di questi involucri in favore di una condizione di più ricca espressione. Ecco, e poi tra l'altro con una ubiquità di questo ragionamento perché da un lato si imputa a Marx il fatto di non essere fedele alla mediazione fino all'ultimo ma dall'altro poi invece si vede in questo l'inveramento di un atteggiamento finalistico organicista tipico sarebbe tipico di Hegel. Ora, secondo me le cose non stanno in questa maniera cioè il fatto è che Marx sempre di più non avendo data per finita la critica della religione ma come dire spostandosi su un terreno diverso è sempre più interessato a vedere questo anche per ragioni politiche effettive cioè il fatto che sulla base di alcune sue idee poi come dire alcune iniziative politiche animate penso alla Comune poi non hanno presa cioè il giacobinismo radicale questa insoddisfazione per i risultati della rivoluzione francese che deve farsi diciamo così integralità per essere compiuta poi non si compie a un certo punto lui però l'attenzione lo sposta sempre di più nel fatto che la politica intrama il momento dell'economia che il potere intrama i rapporti capitalistici e cerca di guardare dentro i meccanismi di contraddizione e mediazione che presiedono alla società moderna cioè fa esattamente quello che alla fine fa Hegel è vero che ci sono anche qui perché poi questi sono autori molto complessi più meno sistematici di quanto si pensi e soprattutto gente dotata con una grandissima convinzione nei riguardi di se stessi e del proprio luogo nella storia per cui anche piuttosto assertivi diciamo così cioè con una riserva comunque prospettica molto forte però alla fine quello che Hegel chiama il sapere assoluto o diciamo così il complimento storico non è mica il fatto che davvero si finisce ogni conciliazione e finisce nel re di Prussia piuttosto che nella filosofia è semplicemente il fatto che io ho padroneggiato il fatto che il mondo è un insieme di nessi di nessi obiettivi ecco Marx fa la stessa cosa storicizzata passando da un livello speculativo a uno propriamente storico tutta la parte seconda della sua ricerca va in questa direzione mi pare che la componente diciamo così finalistica organicistica per cui si arriverebbe a un mondo in cui si risolvono tutte le contraddizioni c'è un afflato sì un po' in questo senso anche per fare un po' di propaganda ma non è l'aspetto preeminente anzi lui dice che anche quando lo dice lo scrive che lui non è che pensa di togliere tutta l'opacità ai rapporti umani lui si preoccupa soltanto di costruire una condizione di diversa regolazione ma il suo problema non è estinguere ogni conflittualità è estinguere il conflitto diciamo così di sfruttamento la contraddizione come dire scaturita dalla dalla dall'ossfruttamento che il rapporto tra capitale e lavoro crea ma non pensa di estinguere ogni contraddizione questo afflato messianico che lui si porterebbe come un in termini di un mancato per il cibito rispetto all'ebraismo sì è riscontrabile in alcuni scritti soprattutto negli scritti politici poi quando lui si fa sempre di più analista della società capitalistica questo elemento viene meno ma diciamo non è l'aspetto preeminente e il fatto che lui non abbia elaborato compiutamente come è vero come gli improverano Alberto Bobbio una teoria dello Stato è dovuto intanto al fatto che lui ha studiato molto e lavorato molto a costruire una teoria generale del capitalismo per cui non gli sarebbe bastata forse una vita a fare tutto il lavoro ma anche al fatto che comunque se noi andiamo a vedere bene la struttura del capitale non c'è l'analisi dello Stato ma c'è l'analisi di una formazione delle classi sociali attraverso il segno politico che i rapporti capitalistici assumono che se non rinvia una teoria generale dello Stato certamente esprime una teoria del politico io sono abbastanza convinto di questo certo poi anche qui bisogna stare attenti non c'è dubbio su questo posso dare ragione a Zingone che gli sviluppi prevalenti nell'anno novecento della teoria di Marx siano andati invece nella direzione di alludere a questo mondo completamente disalienato persino chi non era direttamente o comunque non si richiamava direttamente alla tradizione del marxismo alla lucca cioè soggettivista voi ce n'avete avuto uno in casa italiano per esempio Nicola Badaloni però alla fine c'aveva quel marchio lì c'aveva l'idea che le forme si potessero estinguere diciamo così però questa è una posizione che nel secondo Marx si ritrova assai poco questo è il punto secondo me e si ritrova assai poco e non solo c'è una grande risorsa che è Antonio Gramsci che invece ci consente di vedere all'opera i dispositivi teorici marxiani proprio nell'analisi di quelle forme che sono forme istituzionali nel rapporto di intreccio e non di pura di separazione sulla quale pure il giovane Marx insiste tra società civile e società politica vorrei anche ricordare con questo chiudo che però lo Stato liberale che noi dovremmo difendere io su questo e qui il discorso naturalmente si riaprirebbe ma andiamoci cauti perché lo Stato liberale non è lo Stato democratico lo Stato liberale difende diritti formali ritagliati su una precisa immagine di individualità che è l'individualità proprietaria poi si afferma la democrazia di massa grazie a Marx che rimette in discussione le cose e fa incontrare l'affermazione isolata dei diritti formali con i diritti sociali noi stiamo recendendo alla condizione delle società liberali noi vivevamo in una condizione di società post liberale rischiamo di vivere in un intrammezzo tra spinta autoritaristica e ritorno alla società e una condizione che recede invece la democrazia di massa Basile ha detto in termini colti con i giusti riferimenti quello che si gioca con un proverbio talvolta lo stato liberale assomiglia libera volpe in un libero bollaio ma le galline non sono d'accordo